E anche questo bimestre facciamo un tratto di strada assieme. Come vi abbiamo raccontato in precedenza tratti di strada è il nome che Ampal Servizi adatta a un report bimestrale che fornisce a università, fondazioni ITS, scuole, CFIP e imprese tutte le novità e le opportunità nell'ambito della transizione. Quattro i topics di questo numero. Il primo è un programma di scambio europeo dal nome che ricorda Topolino, Eurodissi senza la N, che offre ai giovani tra i 18 e i 30 anni chance di apprendimento sociale, culturale e linguistico attraverso il finanziamento di corsi di formazione in lingua straniera e tirocini retribuiti presso aziende sparse tra Belgio, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Portogallo, Spagna, Romania, Svizzera, Serbia e Cipro. Il secondo parla di noi Ampal e dei nostri sforzi a favore dei net tramite iniziative come il bonus Io Lavoro, Crescere in Digitale o il nuovo Self Employment. Il terzo apre una finestra sulla regione Toscana e la sua iniziativa finalizzata al finanziamento di percorsi di alta formazione della durata di 24 mesi con assegni di ricerca da 30.000 euro l'ordi l'anno. Per partecipare occorre rispondere al bando entro il 5 maggio e sempre a maggio il 10 si può partecipare al Millennium Award, un contest multidisciplinare rivolto ad under 30 che mette in palio la partecipazione a produzioni musicali, cinematografiche, pubblicazioni di saggi, opportunità lavorative e denaro per premiare idee e progetti innovativi in nove ambiti dalla saggistica al cinema, dalla musica allo sport all'imprenditoria sociale all'architettura.